Il libro è importante che chi si è allontanato in un momento di difficoltà possa rientrare e ritornare nella propria terra. Penso che sia la cosa fondamentale ed importantissima perché chi è andato via, forse anche oltre la sua volontà, debba avere l'opportunità di ritornare. Mi fa piacere iniziare questo cartellone delle manifestazioni natalizie con la presentazione di questo libro che di fatto potrebbe riassumere anche l'essere in politica di ognuno di noi perché l'impegno che dobbiamo metterci è quello di far sì che personaggi come quello del libro siano invece personaggi reali che possano ritornare nella nostra terra e avere un lavoro dignitoso, la possibilità di crearsi una famiglia e soprattutto la possibilità di vivere questi stupendi territori perché come la Calabria, penso, in Italia non è che ci sia molto. La terra del ritorno, Pellegrini, editore di Giussi Staropoli, Calafati, che vive opera a Briatico in provincia di Vibo, Valencia. È un romanzo che arriva diritto al cuore, che fa capire come ognuno di noi può trovare la propria felicità nel posto in cui nasce senza dover per forza cercare terre nuove, migliori. Questo è un libro molto complesso, anche se sembra facile come trama, sembri, no, no. E allora bisogna leggerlo con ottica interdisciplinare perché bisogna guardare dal punto di vista antropologico la situazione calabresa, dal punto di vista storico, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista del mito, dal punto di vista anche della lingua perché è chiaro che la lingua adottata da Giussi Staropoli e Calafati è una lingua, diciamo così, mista laddove l'italiano, a volte anche aulico e il dialetto si frammistra e crea un tipo di lingua nuova. La terra in cui si nasce non può restare sola e tornare per restare, è la sola rivoluzione possibile, la più estrema forma di viaggio. È necessario e fondamentale, come diceva l'autrice, che ogni figlio ritorni alla propria madre, e quindi la propria madre intessa come la propria terra. Il personaggio di questo libro vive un disagio interiore che penso e credo ogni calabrese, ogni meridionale abbia provato, ovvero sia quello del riscatto personale da raggiungere lontano dalla propria terra e quindi la sofferenza per l'abbandono della propria terra e contemporaneamente l'amore viscerale verso la propria terra e quindi il bisogno di ritornare. La nostra calabria è una grande storia, una grande tradizione e quindi è un omaggio questo libro di Giussi Staropoli e Calafati che sta girando in lungo e in largo non solo per la Calabria, per promuovere la lettura, per promuovere la cultura. Ho scritto questo libro perché la nostra terra è fatta di gente per lo più che parte, è sempre gente in viaggio, per cui scrivere la terra del ritorno mi sembrava quasi doveroso, se vogliamo, per certi versi, perché non può essere la Calabria o comunque il meridione d'Italia solo terra di partenza, ma terra soprattutto di ritorni lo deve obbligatoriamente essere.